Io di Forchielli tendenzialmente mi fido. Conosce la Cina, conosce l'economia, sa di cosa parla. Se leggi i suoi libri, su alcuni principi morali io lo trovo esemplare. Sulle tasse, parole sante. Ma perché l'agenzia delle entrate non legge i suoi libri e si appassiona ai suoi bilanci? Alberto Forchielli indaga l'evasione fiscale per 3,9 milioni di euro, finta sede all'estero per evadere le tasse. E lui non è che ha smentito, abbiamo già transato e pagato la somma di 2,7 milioni all'agenzia delle entrate. Ma uno che deve 3,9 milioni allo Stato e poi transa a 2,7 milioni, non dovrebbe vergognarsi un po'?